Tuglio Trapasso, City Report, dove siamo oggi in questa calda giornata di fine settembre? Come potete vedere dalla scritta, Lions Squad Milano, cos'è questa struttura che vi portiamo a conoscere ed è una nuova volta in cui la conoscerete, migliorata rispetto all'altra volta che era all'inizio, è un luogo di aggregazione, è un luogo dove si fa survivor, è un luogo dove divertirsi e conoscere delle persone, questo è l'ingresso, siamo nel comune di Cologno Monzese e questa è via Milano 159. Tuglio Trapasso, City Report Tuglio Trapasso, City Report, conoscere delle persone, insieme a Paolo Ruscori. E appena entrati dall'ingresso, questo è il ricevimento e la parte di entrata della struttura. Tuglio Trapasso, City Report 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 Vedete c'è del fumo, non entriamo perché è appena esplosa una granata tattica d'addestramento, chiaramente legale, ufficiale, non ci sono golpi militari qui. E qui prosegue. So che molti di voi, come vi ho già detto, penseranno, ma Tullio, tu e i tuoi ragazzi siete tornati in un altro palazzo abbandonato? Beh, vi posso dire una cosa, se non ci fossero questi ragazzi della Milan Squad, del Camp Rebel, molto probabilmente saremmo tornati qui con tutte le paure che si hanno quando si affronta una struttura così grande, con tutte queste costruzioni, abbandonata, con le persone che sono all'interno, che non si sa bene cosa vivono, cosa facciano. Et voilà. Sono io che vi è compagno. Come raramente accade, come potete vedere, la struttura prosegue anche di qua, con le varie luoghi in cui i ragazzi si nascondono per sparare. Questo è un laboratorio MTC. Nucleare e biologico-chimico. Guardate, devo dire la verità, oggi mi ritrovo come essere, tra virgolette, un bambino, perché chi è appassionato di esplorazioni o comunque del mondo anche militare, le ricostruzioni di guerra, devo dire che è veramente qualcosa di grandioso. Allora, bene, un bel posticino, divertente per chi piace queste cose. Beh, guarda, ti posso dire una cosa. Tanto siamo in un purparle, qui c'è il pupazzo con le macchie rosse che dovrebbe ricordare il sangue, appunto per l'MPC. Sì, secondo me anche a chi non piace questo tipo di gioco, però ha piacere che esista una struttura organizzata nella legalità con qualcuno che controlla, perché ricordo, ve l'ho appena detto, pensa ad avere una struttura accanto a casa tua, come adesso, però invece di essere una ricostruzione c'è veramente della gente che non sa chi è, cosa fa. È una cosa impensabile. A Milano mica tanto impensabile, l'abbiamo visto un po', eh. Quindi anche a chi non piace, secondo me, piuttosto che sapere di avere vari palasciarp, ne vogliamo raccontare qualcuno, utilizzato in una maniera legale, sicura, eccetera, approverebbero volentieri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cari amici, nuova puntata di City Report, siamo verso la fine di settembre, giornata molto calda, vedete a fianco a me un caro amico che già avete visto altre volte, un amico di City Report, una persona molto attiva sul territorio. Adesso vi spiegherà dove siamo e cosa succede qui. Buonasera a tutti, sono Marco Annis, presidente dell'Allian Squad Milano. Ci troviamo a Cologno-Monziese, zona sud, vicino alla tangenziale est. Questo è il campo della Lion Squad Milano dato in uso per un periodo breve. Abbiamo una squadra di sportattici, quindi facciamo dal softair all'orientamento al survival con gare anche di 24 ore dove qui ci alleniamo e incontriamo le altre piccole associazioni sparse sul territorio lombardo. Questo qua è un campo di 22.000 metri quadri che era purtroppo abbandonato dagli anni 80 che abbiamo un po' ripulito per le nostre attività. Ed ecco che entriamo in campo noi. Quando vi parliamo durante tutte le settimane, in tutti i luoghi dove andiamo, Milano, provincia, la città metropolitana, di che cosa si può fare dei terreni, delle proprietà abbandonate, vi stiamo facendo vedere questa settimana un utilizzo sano, concreto e che comunque porta sicurezza e piace e dà sostegno a tante varie associazioni che hanno tanto da dimostrare e tanti giovani a cui vogliono partecipare per unirsi a questi gruppi. Da quanto tempo era vuoto mi hai detto? Allora qua era abbandonato da fine anni 80 e noi l'abbiamo preso in mano a metà del 2018 ripulendolo per cinque mesi, risistemandolo, dando accoglienza ai membri della squadra, costruendo come potete vedere con pezzi reciclati di abbandonati, di letti, bancali, assi, queste piccole strutture che fanno parte dell'ambientazione del nostro gioco tattico del software e da quando siamo qua possiamo dire che abbiamo un po' anche ripulito questa zona qua, non entrano più senegalesi a spacciare, non si vedono rom. Soprattutto non vedo più la discarica che c'era una volta, molto pericoloso e inquinante. Soprattutto siamo riusciti a radunare in alcuni punti che abbiamo bindellato per sicurezza e vari oggetti che erano sparsi per il campo, quindi da lavatrici, scaldabagni, migliaio di biciclette rubate e tante altre cose della gente che entrava qua a buttare come è successo a dicembre che abbiamo beccato qua un gruppetto di rom che stava per scaricare qua vecchi materiali da bagno e tutto e li abbiamo gentilmente portati fuori. Ed ecco, e torniamo sempre al solito punto, la partecipazione dei cittadini, la buona volontà dei cittadini ma poi alla fine le istituzioni, chi di dovere, che ha in carico anche queste aree se non vengono sorvegliate dai privati o comunque se i privati non ce la fanno a controllarle, potrebbero sostenere molto di più le associazioni sane che si presentano con un nome, con un cognome, con un progetto molto chiaro. Adesso facciamo la domanda da avvocato del diavolo, anche se io già qualcosa so. Marco, ma tutte le istituzioni qui diciamo limitrofe vicine, visto che tu hai tutto questo bel progetto che ci hai appena spiegato ti hanno dato una mano anche economicamente a altre situazioni? No, diciamo che ci siamo autogestiti fin dall'inizio, sempre con fondi personali quindi chi guadagna uno stipendio metteva qualcosina, compravamo materiale, motoseghe, decespugliatori, martelli, attrezzature per pulire. Quindi neanche le attrezzature base di giardinaggio che potrebbe avere qualunque comune ti sono state date in prestito? Abbiamo fatto tutto personalmente, il comune comunque di Cologno sa che siamo qua e ci ringrazio per tenere la zona lo so perché il sindaco, abbiamo parlato prima di arrivare al terreno, è stato lui uno dei fautori per farmi arrivare nel terreno ma come istituzioni, quanto grandi, anche se siamo un'associazione regolarmente iscritta, anche al CONI, a tutto siamo sempre stati autogestiti ma non abbiamo mai avuto riscontri di nessun genere da qualsiasi associazione né grande né piccola. Perfetto, adesso vi portiamo a vedere cos'altro succede qui perché state vedendo la Boscaglia che molte volte anche a me e tutte le altre persone che sono qui con me, tra cui i membri dello staff, Daniele, Francesco, Orso ha ricordato molto i posti dove andiamo normalmente noi. Ecco perché vi ho detto questa situazione che sarebbe possibile occupare questi spazi vuoti per questi progetti che sono molto belli e soprattutto rendono sicurezza e danno partecipazione ai cittadini. Adesso continuiamo, seguiteci. Come potete vedere qua abbiamo recuperato quest'area costruendo come un'ambientazione di film un checkpoint in un finto aeroporto che abbiamo ricreato per fare le nostre gare. Sempre qui abbiamo utilizzato ovviamente materiali abbandonati e abbiamo costruito come tipo tanniche di benzina e un aeroporto utilizzando anche dei fusti della birra facendo pinte bombe. Con i bancali una piccola torre di controllo. E siamo in mezzo alla natura ma come potete vedere dalle immagini di Paolo Rusconi questa è una struttura molto particolare chi ha fatto il militare o chi ha visto dei film di un certo tipo sa di che cosa parliamo ma chiediamo a Marco come è nata e che cos'è. Allora questa è una trincea che abbiamo ricostruito prima del good down con i ragazzi abbiamo scavato dei giorni utilizzando sacchi della spazzatura, cuscini abbandonati in giro abbiamo costruito come dei sacchi di sabbia mettendo su terriccio e coprendoli con altri sacchi neri però il problema sono gli animali selvatici che vengono a scavare questo è sempre per l'ambientazione di gioco è un diutilizzo di avvallamenti che c'erano già in precedenza abbiamo solo creato una struttura vera di gioco a modi trincea prima guerra mondiale. Ed ecco quello che si può fare anche in un'area abbandonata con tanta buona volontà nella legalità, nella sicurezza basta volerlo se qualcuno si sveglia e magari agevola queste situazioni ci fa un piacere. Andiamo avanti. Stiamo proseguendo, stiamo conoscendo questa proprietà che come ci è stato raccontato prima di essere affidata era abbandonata infatti vedete si sta ripulendo, c'è ancora qualche sacco di immondizia, manca però il fico e il nostro carrello che troviamo sempre nelle proprietà abbandonate ma forse avremo una sorpresa. Andiamo avanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E adesso stiamo andando a vedere una struttura solida, più grande, questo è l'ospedale. come vedete non ci manca niente, c'è anche il paziente in fin di vita, finto chiaramente, ed è una maniera divertente per imparare, godere della natura, recuperare i posti e fare delle esperienze nuove, conoscere degli amici. Sicuramente siamo a un livello, anche se le immagini potrebbero sembrare come i posti dove siamo noi, ma questi sono tra virgolette ricostruiti alcuni. Qui c'è legalità, c'è sicurezza, poi vi spiegheremo anche come funziona per partecipare, e farne parte, quale garanzia avete, eccetera. Proseguiamo. Comunque Paolo, come City Report ci muoviamo sempre in situazioni molto particolari, poco viste dalle più di persone, e devo dire che ogni volta mi stupisco, in questo caso in positivo, dalla fantasia dei giovani, delle associazioni, di chi comunque con quello che sa fare vuole recuperare quello che c'è intorno. Una bella iniziativa, sarebbe da seguire anche al Comune di Milano, perché ricordo, qui siamo a Colonio Monzese. E questa è la sala di radiocontrollo service. Come vedete c'è tutto quello che serve per creare una struttura militare dotata di tutti i servizi. C'è veramente da fare un applauso agli ideatori di questa struttura, perché l'hanno ricreata veramente bene. E stiamo entrando nell'ufficio del generale. Ciao amici. Stiamo uscendo dall'edificio principale, il nostro amico, anche qui. L'ultimo che vi abbiamo fatto vedere, settimana scorsa, e anche in via Medici del Vascello la settimana prima, non mancano, i supermercati grandi fornitori. Andiamo avanti. Musica 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 Cari amici, eccoci qui, siamo all'uscita di quello che avete potuto vedere fino adesso, questo bellissimo campo, veramente spettacolare sotto tanti punti di vista, ma venitelo a vedere, e per venire a vederlo cosa dovete fare? Chiediamo a Marco e ci spiegherà come fare. Allora, per contattare la Lions Code Milano potete andare su Facebook alla nostra pagina Lions Code Milano SD e mandarci un messaggio che tranquillamente vi risponderemo nel momento più breve possibile per organizzare un appuntamento e anche una prova con noi. Noi siamo un'associazione sportiva regolarmente iscritta al CONI, all'Axe e con assicurazione, quindi non ci sono nessun problemi, potete venirci a trovare, fare la prova, e se volete, se avete fra i 15 e i 24 anni, potete anche iscrivervi. Quest'anno, oltre alla solita attività sportere, metteremo dentro primo soccorso, arti marziali, escursionismo, roccia, e se riusciamo anche canyoning, quindi siamo abbastanza a 360 gradi, oltre al sociale che facciamo ogni anno. Perfetto, direi che ha detto tutto, non ho avuto bisogno di aggiungere nulla, vedo alle nostre spalle tantissimi ragazzi qui del campo, una domanda su tutte ve la faccio da qui, chi è il più giovane che viene a fianco a me, che lo riprendiamo, dai, vieni. Anche due, anche due, non è un problema. Mi raccomando, mantenete le sicurezze di distanza, se no ci... Ed ecco, nuove generazioni, Camp Rebel, Marco Hannis, Cologno Monzese, City Report, seguiteci, che adesso vi facciamo vedere ancora qualcosa. Andiamo avanti. No, partita, sì, adesso è partita. Chiusura di puntata, City Report, Cologno Monzese, Camp Rebel, ne vedrete delle belle, ne avete visto delle belle, e non finisce qui, insieme a Orso, Dani, Diamond Frank. Andiamo avanti, City Report. Chiusura di puntata, City Report. Ciao. S'c200, ça ne va a essere delle belle, le arrivere, le arrivere, le arrivere, di noi. Chiusura di puntata, City Report. Ma è lap films come sul bene. Non finisce qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.